Buonasera gentili amici ben trovati nuovo appuntamento con Confagricoltura News vado subito ad introdurre l'ospite di questa sera collegato dalla sede centrale se così possiamo dire di via Luca Fancelli il vice direttore di Confagricoltura a Mantova Massimo Battisti ciao Massimo ben trovato ciao Andrea buonasera a tutti allora parliamo questa sera in questa puntata di anagrafi zootecniche perché da quest'anno anzi in realtà dal prossimo mese mancano poche settimane ci saranno delle importanti novità soprattutto un cambiamento diciamo da regionale a nazionale spiegaci di cosa si tratta sì allora bisogna dire innanzitutto che è un cambiamento che riguarda solo la regione Lombardia perché la regione Lombardia era l'unica regione che si era adottata soprattutto negli ultimi tempi di un banca dati regionale e i dati poi messi dagli elevatori nella banca dati regionali transitavano in quella nazionale che era di riferimento per tutti questo costante aggiornamento da banca dati regionale a nazionale diventava un po' troppo oneroso dal punto di vista anche economico da parte regione per cui ha deciso di smetterlo la regione il suo nodo regionale per passare tutti i dati e direttamente su quello nazionale quando avverrà questa transizione dal primo aprile per le specie bufaline e bovine successivamente i mesi successivi anche per i suini gli orvi caprini quindi è importante che gli allevatori di bovini e bufalini sappiano che coloro che stanno lavorando sulla banca dati regionale presto dovranno transitare su quella nazionale ci penserà la regione ad avvertire gli allevatori comunicherà con una pecca tutti questa importante novità e sono previsti anche dei corsi che faremo anche come confaricoltura in accordo in collaborazione con la ts valpadana per formare gli allevatori perché possono poi continuare a lavorare sulla banca dati nazionale quindi è una novità molto importante che ripeto nel giro di pochi mesi andrà a interessare tutte le specie animali che vengono allevate perfetto insomma quindi gli allevatori sono avvisati bonariamente parlando ma anche il decideratore battisti ci ha spiegato che sarà poi la regione a comunicare il tutto e quindi insomma arriveremo a questa scadenza con i nostri allevatori sicuramente preparati a questo nuovo cambiamento grazie a massimo battisti per essere stato qui con noi alla prossima occasione agli amici a casa diamo appuntamento invece alla prossima settimana arrivederci grazie a tutti grazie a tutti